La premessa, perché penso che qui in sala ci siano molti giovani allenatori, la premessa doverosa è un pochino, all'inizio è un pochino personale, cioè com'è che io mi sono trovato a fare quello che poi ho fatto per tutta la vita? Io ho subito il fascino di un allenatore di settore giovanile per cui giocavo quando avevo 14, 15, 16 anni nelle giovanili della Reier Venezia, questa persona si chiamava Renato Vianello e nella mia immagine, nel mio essere giovane giocatore e studente di liceo classico era l'allenatore con la A maiuscola, cioè era una persona che veniva tutti i giorni in palestra vestito da allenatore, tanto per cominciare, cioè veniva che si capiva per come era vestito che non era né un giocatore che faceva l'allenatore da tempo perso, non era uno che aveva un altro lavoro, anche se in realtà l'aveva e veniva in palestra di fretta, ma era uno vestito da allenatore, questa non è una cosa secondaria perché aveva un impatto importante nella mia immagine, che fosse pronto e preparato, era uno che aveva la sua cartellina con il programma di allenamento preparato e scritto e poi lo seguiva anche, ed era uno che ci correggeva, ed era uno che per un qualsiasi, per motivi che non sono in grado magari di spiegare in profondità, era uno per cui ci saremmo buttati nel fuoco, nel senso che era una parte importante di tutti noi ragazzi, noi eravamo a Venezia, io mi ricordo abitavo a Mestre con la mia famiglia e tutti i giorni andavo a fare allenamento alla palestra della misericordia, parliamo degli anni, inizio anni 70, metà degli anni 70, mi ricordo perfettamente che c'era il giorno fortunato che ci faceva allenamento dalle 4 alle 6 e la maggior parte degli allenamenti erano dalle 8 alle 10 e ricordo che la mia giornata era preparata per quell'allenamento dalle 8 alle 10 e questa persona mi aveva molto affascinato per come ci allenava, da ragazzo avevo 16-17 anni, giocavo nel settore giovanile della Reier Venezia e ho cominciato a aiutare un altro allenatore del settore giovanile che era di Mestre e quindi faceva anche lui su e giù come me, il quale allenava i gruppi ancora più giovani e soprattutto allenava anche il nostro mini baschi ed andavo in palestra con loro, quindi ero talmente maniaco e avevo anche la fortuna che a scuola stavo attento e mi riuscivo a gestire senza dover studiare ore e ore e quindi andavo sia in palestra con i bambini piccoli sia in palestra a giocare. È noto credo per chi di voi segue un po' le vicende della pallacanestro, magari l'avrò letto 10 volte, mi scuso se ripeto una storia. Quando ho 17 anni, una partita di finale regionale che giochiamo alla Misericordia, sbaglio due tiri liberi a tempo scaduto, il sogno di tutti noi ragazzini di fare questi canestri che ti cambiano la vita, io invece vado in lunetta e faccio 0 su 2, clang clang, perdiamo di un punto. L'indomani a scuola il famoso Tonino Zorzi che era allenatore della prima squadra mi fa chiamare dal bidello, mi fa un culo così in dialetto goriziano dicendomi quanto sfigato ero che avevo sbagliato i due tiri liberi e questo e quell'altro. Mi ricordo come fosse adesso, era maggio, se penso alla scena mi viene ancora da piangere e poi alla fine mi dice senti tu sei uno che non diventerà mai un giocatore, grazie, allora mi consolavo perché allora c'era A1, A2, B, C, quindi se ti dicono che non sei un giocatore, se ti dicono adesso che non diventerai mai un giocatore è un casino perché ci sono 18 serie e che uno non trovi posto in una delle 18 serie è abbastanza grave, allora con 4 o 5 serie ti dice che non ce la fai, vabbè. E poi mi dice però io ti ho visto lavorare in palestra con i ragazzini e secondo me tu potresti fare l'allenatore da grande e quindi se vuoi noi come società ti paghiamo tutti i corsi finché prendi la tessera per allenare. E io a 17 anni, penso un po' la stupidaggine perché poi la mia vita è stata una vita fortunata da un punto di vista professionale eccetera eccetera, però io poi ho smesso di giocare, questa è una cosa che mi porta addosso ancora adesso, io ho smesso di giocare a 17 anni, che tornassi indietro anche se mi dicessero che poi diventavo un famoso allenatore avrei continuato a giocare. detto questo, decido di smettere di giocare e inizio a fare l'allenatore e faccio l'allenatore copiando il mio allenatore. La premessa ha un significato molto importante per i nostri giovani colleghi che sono qui, indipendentemente da quanto siete bravi o quanto sarete bravi, indipendentemente da quanto vi preparate, indipendentemente da quanto sapete, indipendentemente da come faranno le vostre squadre, dovete avere la fortuna nella vostra vita che qualcuno vi dia un'opportunità, dovete pregare tutte le sere che qualcuno vi dia un'opportunità. Io ho avuto la fortuna indiscussa e immeritata che a 17 anni Tonino Zorzi mi ha fatto diventare un allenatore, cioè la Reier Venezia mi pagò i corsi allenatori per 6 anni, fino a arrivare al corso allenatore nazionale per prendere la tessera e mi fece allenare a 17 anni la squadra dei ragazzi di 14 anni, che se ci pensate è una bestemmia, è contro qualsiasi manuale etico di crescita dei giovani fanciulli che tu a 17 anni possa allenare i ragazzi di 14, perché non ne hai le competenze umane, non quelle tecniche. A 30 anni per motivi casuali mi hanno fatto allenare la Virtus Bologna, con gente come Brunamonti a giocare. A 33 anni, per altri motivi non ben chiari, mi hanno fatto allenare la nazionale, il Presidente della Federazione mi ha fatto allenare la nazionale e così via. Se io non avessi avuto questi pazzi scatenati che mi hanno offerto queste opportunità, io potevo essere il più bravo, il più preparato, non avrei avuto la carriera fortunata che ho avuto. Quindi non frustratevi, non battete la testa sul muro se vi sembra che le cose non vadano come volete, ma auguratevi che vi arrivi un'opportunità e non mettete in atto cospirazioni per avere le opportunità, perché le opportunità se devono arrivare arrivano, questo almeno è come la penso io. Passo avanti. Che cosa mi ha aiutato il mio allenatore? Il mio allenatore mi ha fatto capire, fin dall'inizio, lui è... Grazie a tutti.